Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi facciamo la recensione di questo bellissimo Junganz Max Bill. Ecco in particolare questo è il modello a ricarica manuale. Come vi ho detto diverse volte le aziende di orologeria tedesca stanno andando veramente forte. Ecco Junganz insieme a Nomos o a Lange & Schoen ecco soltanto per nominarne tre sono aziende che stanno investendo molto stanno innovando oltre a riprendere naturalmente i modelli che hanno del passato sono aziende che hanno tutte una tradizione importante. Ecco tra queste tre forse è Nomos quella che è più recente ma sta veramente producendo degli ottimi orologi spero di poterne recensire uno al più presto. Ma oggi ecco siamo qui con questo Junganz Max Bill come vi ho accennato era già diverso tempo che ci stavo dietro volevo appunto ne stavo cercando uno ad un prezzo insomma buono per poterlo recensire. A questo punto senza perdere altro tempo cambiamo prospettiva e andiamo a vedere l'orologio più da vicino. Prima di iniziare appunto volevo farvi vedere il mio Timex degli anni 50-60 ecco questo come sapete è un pezzo vintage che appunto oggi l'ho messo perché anche questo è di ispirazione Bauhaus. Ecco poi volevo ecco dirvi alcuni scenni storici no della della Junganz ecco la Junganz fu fondata nel 1861 a Schramberg in Germania nella regione della foresta nera da Erhard Junganz e il suo cognato Joab Zeller Tabler all'inizio producevano componenti per orologi da muro casse appunto le lancette i pendoli per appunto per altre per altre aziende erano dei fornitori cominciarono a produrre orologi nel 1866 utilizzando principalmente movimenti provenienti dagli Stati Uniti. Erhard morì nel 1870 e sua moglie continuò appunto l'azienda fino a che poi i figli Erhard Junior e Arthur presero appunto le retini dell'azienda e la portarono avanti. Nel 1903 la Junganz produceva più di 3 milioni di orologi all'anno con 3 mila dipendenti era l'azienda più grande del mondo. Ecco per migliorare le condizioni dei suoi dipendenti Arthur Junganz costruì un edificio che sfruttava la pendenza di una collina per assicurare più luce ai suoi lavoratori. Il nuovo edificio fu ultimato nel 1918 ed è un bellissimo esempio di architettura industriale. Junganz iniziò a costruire orologi da polso nel 1928 e negli anni 30 svilupparono dei movimenti fatti in casa. Ecco negli anni 50 l'azienda iniziò una collaborazione importante con un design uno dei più famosi di quel tempo che era appunto Max Bill. Max Bill era un famoso designer, un grafico, uno scultore ed un architetto svizzero. Aveva studiata la famosissima scuola Bauhaus di Dussault in Germania. Ecco per chi volesse saperne di più a proposito di questa scuola che influenzò ed influenza anche oggi appunto l'orologeria, ma non solo l'orologeria con la sua appunto ricerca della funzionalità, metto in alto a destra il video che ho fatto dedicato appunto a questa a questa scuola. Ecco Max Bill per tutta la sua carriera ha cercato di realizzare oggetti che rimanessero belli nel tempo, un mix di stili uniti per il fine di creare oggetti che rappresentassero la bellezza e l'utilità senza fronzoli inutili. Il primo lavoro che realizzò Max Bill per la Junganz fu un orologio da muro nel 1956. Ecco questo è un orologio che ebbe un incredibile successo ed era presente in quasi tutte le cucine tedesche ed anche oggi è un pezzo di orologio appunto da muro molto ricercato dai collezionisti. Cinque anni dopo realizzò una serie di orologi da polso che riprendevano il design del suo primo lavoro appunto l'orologio da muro e creò una linea che fino ai giorni d'oggi mantiene il suo nome. Ecco questo particolare orologio che vedete è stato realizzato per due anni dal 61 al 63 poi è stato rilanciato nel 1997 oggi può essere acquistato questi Junganz Max Bill ecco vedete qua c'è anche la firma di Max Bill oggi possono essere acquistati ci sono diverse diverse tipologie ecco questo qui è il meccanico che è 34 mm di diametro e riprende in tutto e per tutto il modello vintage ecco anche il modello vintage era 34 mm era praticamente identico come disegno del del quadrante ecco non cambiava non cambiava proprio proprio nulla quindi questo qui ed era naturalmente anche quello con ricarica manuale ecco l'unica differenza è che quello vintage degli anni 61 al 63 insomma dei primi anni 60 aveva il movimento in house aveva un movimento che praticamente utilizzava che era prodotto appunto dalla dalla Junganz mentre invece questo qui ha un movimento età poi lo vedremo lo vedremo più avanti il colore del quadrante ecco dipende molto dalla luce no il quadrante può sembrare bianco oppure a seconda della luce e può sembrare grigio è un grigio molto granuloso ecco le scritte come potete vedere appunto qua Junganz design le scritte sono molto precise e piccole a ore 12 una particolarità di questa scritta è proprio l'utilizzo di questa parola design ecco max bill non era un grande amante ecco design è una parola inglese non è una parola tedesca e max bill ecco preferiva utilizzare parole tedesche ecco fatto sta che per una ragione o per un'altra ecco questa scritta Junganz design è una una scritta che appare molto spesso sugli orologi max bill gli indici delle ore sono veramente sottili ecco sono veramente minimalisti e ci sono dei punti a ore 3 a ore 6 a ore 9 a ore 12 di luminescenza ecco ora vi faccio vedere un attimino la luminescenza come appare al buio come potete vedere insomma la luminescenza non è un granché però è leggibile insomma no si possono si possono vedere che ci sono due puntini a ore 12 che appunto danno un po' la direzione no di quello l'orientamento dell'orologio dopodiché insomma abbiamo queste queste sfere molto sottili che però hanno della luminescenza e basta insomma ecco per far sì che si possa leggere l'ora anche di notte le sfere sono snelle ed appuntite hanno appunto sono riempite appunto di luminescenza e ecco nel suo insieme il quadrante non ha niente di più del necessario eppure non appare non appare vuoto ma molto funzionale ecco io credo che un po' il punto di arrivo no dello studio di max bill sia sia stato proprio quello ad ogni indice corrisponde un numero arabo ecco il carattere utilizzato per disegnare questo numero è veramente unico e non si trova in nessun altro orologio ecco date un'occhiata ora proprio in questo momento siamo sul siamo sul 4 ecco dato un attimo un'occhiata alla a che carattere no che c'ha questo questo 4 ecco alcuni credono che appunto questa questo carattere che viene utilizzato sia legato a max bill in realtà ci sono altri orologi ecco sempre della jungans che già utilizzavano questo questo carattere quindi questo non è una cosa che ha portato max bill in particolare ma sicuramente ne distinguono il carattere insomma di questo particolare orologio il vetro è in plexigas ed è bombato che appunto ne enfatizza guardate qualche bombatura no che c'ha e ne enfatizza il carattere vintage del dell'orologio ecco vedete come richiama è proprio esattamente a quel uguale a quello che a quello degli anni quello degli anni 60 ecco questo è l'orologio ecco ho letto anche che la superficie di questo vetro è stata indurita e comunque anche in caso di graffi questo vetro può essere facilmente riparato con del poli watch quindi insomma io non mi starei più che altro a preoccupare e poi questo qui è un orologio elegante che va utilizzato con orologio insomma con un vestiario elegante insomma quando non state facendo lavori manuali quindi insomma è abbastanza difficile ecco poterlo poterlo graffiare il movimento in esso contenuto è il famosissimo eta 2801 ecco è la versione senza ricarica automatica del 2824 ma in pratica è un 2824 ecco nel passato jungans e come ho già detto montava movimenti suoi quindi i puristi storgono un po il naso ma comunque sappiamo che questo movimento stupendo è molto affidabile anche se naturalmente non può essere considerato di manifattura l'impermeabilità dell'orologio è di 30 metri quindi insomma può essere utilizzato soltanto per lavarsi le mani ed ora diamo un'occhiata alle dimensioni come diametro abbiamo 34.3 la larghezza delle anze è 18 lo spessore dell'orologio è 9.3 da anza ad anza abbiamo 37.4 ora diamo un'occhiata alla corona ecco la corona non è serigrafata ecco vedete che non c'è nessuna serigrafia ecco è veramente una dimensione giusta si prende bene anche con i guanti vedete che si si ricarica benissimo ora io l'ho quasi caricato al massimo non lo voglio sforzare però ecco come dimensioni sicuramente sono delle dimensioni perfette ecco guardiamo un attimino il fondello il fondello è a vite come potete vedere ci sono questi due punti qui per poterlo per poterlo aprire ecco all stainless steel e poi qui c'è il numero appunto il codice del dell'orologio il il numero ecco di appunto lotto di produzione come potete vedere al centro c'è la la firma di max bill e jungans ecco tutto è praticamente lucido ecco qua potete vedere la cornice del dell'orologio è veramente piccolina anche le anze sono veramente minimaliste proprio sono proprio al minimo ecco di quello che ecco però potete vedere ecco come è bella anche come forma no questa questa cassa ecco per quanto riguarda il cinturino in pelle ecco sicuramente di ottima fattura io ho scelto appunto si possono scegliere no i vari colori io ho scelto per il momento questo questo qua me ne hanno dato anche uno di di scorta è più chiaro ma per il momento ci tengo appunto questo qui l'ardiglione non è firmato neanche quello non è serigrafato ecco questo è proprio proprio così liscio liscio magari qui insomma potevano anche va bene ora al minimalista ma insomma qualche cosa potevano anche anche mettercela ecco qua possiamo vedere la veramente la la pelle è di ottima fattura qua c'è appunto la la firma di jungans e qua c'è appunto la pelle è vera pelle ecco è veramente morbido ecco sicuramente si si porta in modo veramente comodo ma ecco diciamo che qui la ricerca del minimalismo è proprio esasperata ecco qua non vediamo nessuna serigrafia così come non vediamo nulla neanche qua alla corona insomma io ora lì qualcosina magari ci mettevo ecco ancora una cosina piccolina però così così ora vorrei farvi vedere la prova al polso ecco io non ho un polso snello è 18 centimetri questo invece è un orologio che è 34 mm eppure a me sembra che stia perfettamente ecco credo che sia una dimensione giusta ecco facilmente è molto snello come potete vedere quindi facilmente va sotto va sotto la camicia quindi è molto molto comodo ecco da utilizzare a questo punto torniamo in studio per le conclusioni finali come già premesso la jungans e le altre aziende tedesche stanno facendo notevoli investimenti ecco in particolare la jungans sta producendo orologi anche con vetro allo zaffiro ecco si vede che si sta muovendo e questo io credo che presto si rifletterà anche in un aumento dei prezzi quindi io non aspetterei più di tanto perché secondo me questo è un orologio un pezzo davvero davvero bello e ecco i puristi storgono un po il naso perché appunto l'originale aveva il movimento in house però o di manifattura ma ecco non è vero che l'originale era un orologio destinato a un ceto ricco anzi era un un orologio destinato appunto a persone che lavoravano persone appunto che ricercavano una funzionalità senza senza fronzoli e quindi doveva essere anche un orologio accessibile ecco oggi la jungans porta avanti questa tradizione ecco non da non da tantissimo la jungans ha celebrato i 150 anni di di attività ecco negli anni 60 ha saputo muoversi ha saputo ecco spingere anche su altri su altri tipi di movimento per esempio sul quarzo ha avuto ha fatto orologi radiocontrollati quindi ecco anche negli anni difficili no della della crisi del quarzo appunto sfruttando questa tecnologia è riuscita a sopravvivere e non ha non ha mai smesso appunto la sua la sua produzione e questo credo che sia un vanto ecco oggi oggi giorno ecco negli anni nella fine degli anni 90 c'è stata una nuova sono stati appunto determinati a tornare nell'orologeria tradizionale nell'orologeria meccanica ecco io sono stato veramente molto felice di potervi recensire questo questo orologio io penso di non che non lo darò mai via perché vedete questo è come sta con appunto con una visuale lunga ecco lo vedete non è 34 mm io ho un polso grosso insomma un braccio grosso eppure non non credo ecco che che stia che stia male inoltre questo è un orologio a ricarica manuale farò una un video apposito ecco è un orologio che ha bisogno ha bisogno di attenzione ha bisogno che tutte le mattine o anche se può durare insomma un paio di giorni perché la riserva di carica è più di 40 ore ma diciamo che tutti i giorni deve essere ricaricata ha bisogno delle vostre attenzioni non si ricarica automaticamente insomma no non ha nessun tipo di rotore non ha la non ha la data ecco ultimamente sono stati fatti anche quelli con il cronografo ha il movimento sempre età 77 50 che sappiamo essere anche quello un grandissimo movimento molto affidabile ecco anche lì ci sono state delle 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 critiche insomma che max bill non l'ha mai progettato un cronografo anche questo è vero questo diciamo che effettivamente è vero però è stato portato avanti un po l'idea sua no il suo la sua la sua idea lì all'inizio ecco ho detto che lui è stato uno studente della scuola bahaus in diversi quando l'ho detto in altre occasioni hanno anche lì mi hanno scritto ma guarda che non è non è stato solo uno studente ma è stato un innovatore ma certo che è così ma non è non c'è niente di male a dire che uno è stato uno uno studente soprattutto quando il tuo maestro ecco ha avuto la possibilità di studiare con kandischi quindi insomma tra i più grandi artisti di quelle di quell'epoca lì no quindi lui ha cercato di portare avanti un messaggio nella sua nella sua vita ha anche fondato una scuola quindi quello che lui cercava di tramandare era una una visione no che poi può piacere può non piacere però è una visione e in questo senso voglio dire se oggi sono è stato fatto appunto anche un cronografo che lui non aveva studiato ma vengono portati avanti quelli la sua la sua idea no la sua visione io credo che sia una cosa una cosa bella ecco questo punto vi ringrazio insomma per aver visto questa questa puntata se vi è piaciuta come sempre mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale io vi saluto e vi auguro una buona domenica ciao a tutti alla prossima puntata ciao ciao